Amici di Viva Ray 2 è l'ultima settimana e proprio visto che è l'ultima settimana volevamo stare qua a... Ma... Dracula! Sono un po' di... È Dracula, è Draculino! Dracula come va? Ma venga venga, non te ne abbia paura! Sì ma ci mancherebbe! È l'ultima puntata! Sì, ma che bella sorpresa! Come vai da queste parti? Lì? Dove? No, non vedo nessuno... Vabbè... Ho una novità! Una novità? Sì, è tornato a trovarmi nel mio fratello! Lo riconosce? Ma sì, ma assolutamente sì, ma ha un fratello... Dracula ha un fratello! Vuoi sapere come si chiama? Come si chiama? Draculama! Per gli amici è Kulama! E basta! Kulama! E basta Draco... Ciao! Ciao fratello! Che paura! Hai visto che bello? Che bello proprio no però... Hai visto? Siamo fratelli quasi uguali! Quasi quasi! Lo sai che? Gli amicoli ci facevamo paura vicenda! Ah! Ci facevate paura vicenda! Mi guardavo e diceva... Che paura! No! No! Tranquillo! Lui è più... Cioè è più spaventato di lei quasi sempre! Sì, sì! Ha visto quante brutte! Sì! Ha fatto un po' fatica! Non so, non sei abituato! Ma? Io sono duecento puntate che uso questi denti! Senta Kulama, doveva fare una domanda? Sì! Ma lei è come lui che ha sempre... ...no allora... No, ragazzi no però, no no! Però stiamo per favore, rimaniamo professionali! Sì! Allora, lei da piccoli cosa facciamo? Sì! Non mi parli proprio dire... Guardavamo sempre la televisione... guardavamo un festival per i bambini e i bambini si chiamava il globulino d'oro lo piaceva tantissimo e il suo sogno qual era? era di dare un presentatore si si ma ce l'ha avuto sempre qui questa cosa sempre ci faceva tanta paura che cosa? di provarlo che schifo ti posso dire una cosa questa cosa che stiamo facendo è molto simpatica però mi sta sputando troppo si si sembra buono ma non lo è bambini tranquilli cosa c'è? l'hai visto? non l'ho visto ho paura è giusto di nuovo ho paura ho paura non ho paura non ho paura non lo dite ti la ricordi la rai? ti la ricordi? ancora se la ricordi? se la ricordavo senti vuoi sapere cosa facevamo? si da piccoli davanti all'ospetto ci piacevano anche le giovelle Kessler ah si? tantissimo eh si mi lascio la mi lascio si la notte piccola per noi tattarara troppo piccolina tattarara e questo se ci ho persa da se ci ho persa non ci siamo mai saltati insieme ce l'abbiamo mai fatta vabbè molto carino però basta così basta ma da piccoli già succhiavate anche da piccoli i vampichi da piccoli succhiano il latte oppure succhiano qualcos'altro? sempre succhiato sempre che schifo ma da Kulama lei meno parla meglio è non lo posso dire io vorrei un terzo di cristallo no no ecco questa cosa qui lei cosa succhiava cosa succhiava no no Kulama no ragazzi no però allora io sono qui faccio no ahiaia 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 cosa che l'abbiamo trasformato sì dici oh è un paranoio ho paura a me ci siamo è brutto se le vanno più abbiamo tre fratelli siamo tre fratelli sono uguali cosa possiamo fare la tre frasi guarda войeron ho paura c'è una ho paura sea